Perché sì, ci sono anche problemi di sicurezza, poi a loro non glielo puoi dire perché ovviamente loro sono solidali con le violenze nei confronti delle donne, purché a operare quella violenza non sia un clandestino perché nella loro morra cinese clandestino batte donna violentata e quindi la solidarietà non esiste più.